Ciao a tutti ragazzi e buona domenica. Vi ritrovate qui sul canale per l'analisi di Lecce e Juventus. Una partita che ho definito brutta e che voglio spiegare anche il motivo per cui l'ho definita brutta. Tanti sono d'accordo con me, ho letto qualcuno che invece nei commenti dei video precedenti non era d'accordo dicendomi che addirittura la Juventus era arrivata a giocare una delle migliori gare stagionali. Non sono per nulla in sintonia con questo commento, con questa presa di posizione. Secondo me è stata una partita brutta oggettivamente sia per noi sia per loro e proviamo ad andare un po' più nel dettaglio con anche un'analisi dati, solita analisi dati che viene fornita da Soccerment. Questo è il match report di Soccerment, come sempre molto bello, molto dettagliato, molto ricco anche di spunti di riflessione. Vi lascio comunque i link della piattaforma Soccerment qui sotto in descrizione, che magari volete farvi un giretto anche voi. Ovviamente non c'è solo la Serie A, ci sono anche tanti altri campionati. Fate un passaggio anche solo per divertimento, per cercare di osservare se c'è qualcosa di interessante che volete inserire, che volete vedere inserito anche nei prossimi video. E ovviamente c'è anche XSeed, che è il parastinco intelligente, sempre fornito da Soccerment. I link sono comunque tutti qui sotto nella descrizione. E allora, tiri in porta, ripeto, partita brutta nella sua totalità. Ci sono stati 18 tiri in totale, ma sono stati tutti poco pericolosi. La Juventus nel finale trema per via di quel palo con il Lecce. Esultano i bianconeri, grazie alla giocatona con il gol alla Del Piero di Niccolò Fagioli. Un gesto tecnico che vale tre punti pesantissimi. Infatti, come potete vedere, gli XG per il Lecce sono 0,17 per la Juve 0,53. Stiamo parlando veramente di una situazione, di una partita povera. Guardate anche solo i tiri, i cerchietti per la Juve e per il Lecce. Quanto poco c'è stato. Praticamente niente da una parte né dall'altra. Non ci sono state delle grosse occasioni, delle occasioni clamorose. Non c'è stato niente di che. Sono stati tutti i tiri abbastanza fini a se stessi, tranne il palo nel finale del Lecce e il gol bellissimo di Niccolò Fagioli. Per il resto non c'è stato niente di costruzione offensiva. Non c'è stata nessun tipo di esaltazione della partita. Una partita proprio brutta, ragazzi. Nella totalità una partita brutta. Con Fagioli che ha avuto anche un po' di critica. fine partita da una parte della tifuseria che va a riprendere anche Gatti e Pinsoglio. Vorrei cercare di lasciare fuori dal discorso per il momento queste situazioni perché già siamo in un momento in cui tutto va male. Se aggiungiamo anche queste cose, beh, aprite i cielo. Dati. Padroni di casa abbastanza nulli. Poco possesso, pochi tiri in porta, poche occasioni, poca precisione dei passaggi. Però stiamo parlando di una squadra neopromossa che mancava dalla Serie A da tre, quattro stagioni. E di una squadra che è ultima in Serie A per il possesso palla. Lascia sempre tutto agli avversari che aveva vinto una sola volta in questo campionato in trasferta. Infatti non aveva mai vinto in casa. Una squadra di pochi punti sopra la zona retrocessione. In questo momento pochi punti in quota salvezza. Quindi ci sta che Lecce non faccia chissà quale partita contro la Juventus. Dall'altra parte una Juve in emergenza, piena di ragazzi del vivaio. Che secondo me è una cosa molto positiva. che però crea poco, pochissimo. Soprattutto nel primo tempo, cui ho sbadigliato due volte. Chi era in live su Twitch, se lo ricorderà, ho sbadigliato una volta dopo 15 minuti, una volta dopo 30 minuti. Ho detto, mamma mia, se questa è l'andazza della partita ci addormentiamo tutti insieme. Invece nel secondo tempo qualche giocata è il gol. Infatti poi cercheremo di analizzare anche la finalizzazione della Juventus per minuti. e vi dimostrerò che veramente non c'è stato chissà che cosa. Modulo. Sinceramente non so come descrivervelo. Perché lo guardo così, mi sembra un 3421. Però poi dico, no, forse è un 4411. Quindi si può leggere come 4231. E poi dico, no, dai, forse è un 352. Un po' storto. Non lo so. Un ibrido. Un ibrido di tutti i moduli citati in precedenza. L'ingresso di Fagioli al posto di McKennie regala sicuramente un po' di energia e di velocità di manovra. E ovviamente il gol, la perla balistica, da tre punti. Però sono curioso di sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti. Secondo voi qual è il modo giusto di definire questo modulo qui? Boh, forse, forse, forse... 3421? Non lo so, non lo so. Fatemi sapere anche un po' voi la vostra opinione. Finalizzazione, che è un po' quello che mi interessa di più, perché uno guardando questo grafico dice Wow, la Juve in realtà nel secondo tempo ha aumentato tantissimo le occasioni. Guardate lì, quell'impennata generale nel grafico fino a trovare il gol. Sì e no, perché appunto non facciamoci ingannare soltanto dal grafico senza numeri. Ricordiamoci che gli XG della Juve sono 0.53. Quindi quell'impennata lì è un mattoncino alla volta fino ad arrivare a 0.53, quindi nemmeno un gol. Perché la giocata di Fagioli è talmente estemporanea al di fuori di quello che è stato l'andamento della partita che è un'azione fine a se stessa, una giocata individuale veramente di altissimo livello che va lontanissimo invece da tutti i pericoli creati dalla Juve. Infatti è 0.53, il picco di XG. La partita è stata priva, priva di emozioni. Davvero tantissimo. Figuriamoci Lecce. Cioè guardate Lecce. Lecce è l'unico modo che ha di sfiorare il gol nel finale con quel palo che... Adesso noi ridiamo, siamo qui che ridiamo perché vinciamo 1-0 ma quel tiro lì può entrare tranquillamente come può non entrare quello di Fagioli. Cioè se la siamo giocata su Fagioli che bacia al palo entra il giocatore del Lecce che tira becca al palo va fuori. Adesso siamo qui che ridiamo e scherziamo perché abbiamo portato a casa tre punti quando ieri vi dicevo che è una partita alla tripla. Ci sono andato tanto lontano. È una partita alla tripla. Poi qualcuno mi ha detto ma come pensavi di vincere? Avevi detto che era la tripla. Ma sono due ragionamenti diversi. Infatti Chiarellev su Twitch con me saprà bene questa cosa perché ho fatto lo stesso ragionamento nel pre-partita. Può finire in ogni modo. Cioè la Juventus che pareggio perde a Lecce in questo momento non mi stupirebbe perché questa Juve può veramente perdere punti con chiunque. Allo stesso modo, allo stesso tempo il Lecce è poca cosa e la Juventus in piena emergenza può comunque vincere quindi mi aspetto una vittoria. Che è un ragionamento che non esclude quell'altro. Infatti partita secondo me ieri da tripla post partita vi dico che appunto i due episodi cardine della partita quindi il palo di Fagioli che entra palo del Lecce che esce la rendono ancora una volta una partita in cui poteva accadere di tutto in cui comunque la Juventus era favorita. Cosa che poi effettivamente è avvenuta secondo me anche con un pizzico di fortuna. Però vorrei cercare di analizzare poi questo andamento degli XG quindi il cumulativo degli XG per capire come la Juventus poi nel secondo tempo ha cercato di creare il gol perché nel primo tempo vedete c'è veramente poca roba pochissimo e infatti vi faccio vedere un po' quelli che sono stati i pericoli creati dalla Juve e il mono pericolo creato dal Lecce. Questo è il primo tiro se vogliamo la prima occasione della partita per la Juventus Squadrado che salta il marcatore e prova a mettere una palla forte e tesa sul secondo palo questo tiro cross che si spegne sul fondo con Milik che non riesce ad intervenire e ribadire il rete. Questa è veramente la prima occasione per la Juventus nel primo tempo è anche una delle uniche ed è un'occasione che non vale niente perché non c'è nulla alla fine questa palla si spegne alla destra del portiere più che altro guardando questa azione qui penso a Quadrado quanto davvero abbia fatto dei passi indietro perché ieri la Juve comunque è stata ancora una volta Quadrado dipendente tutti i pericoli pochi pericoli sono nati da Quadrado cioè noi stiamo continuando a chiedere a Quadrado le stesse giocate che gli venivano in periodo di forma elevati e quindi noi siamo molto dipendenti da Quadrado lo eravamo con Piro lo eravamo con Sarri lo siamo stati con Allegri e lo siamo con Allegri perché Quadrado è un giocatore in grado di creare pericoli però Quadrado una volta quella palla lì non te la crossa da lì anzi non tira nemmeno da lì va sul fondo e crossa adesso sul fondo non ci arriva più e Quadrado crossa sempre di più segno di un Quadrado che in questo momento sta facendo veramente molta molta fatica e forse segno anche che dovremmo avere qualcosa in più nel repertorio rispetto a palla a Quadrado e vediamo che cosa succede questa è l'unica azione che mi è piaciuta nel primo tempo sgruppata di Alexandro che guadagna metri palla al piede appoggia per Sule va in verticale per Sule che riesce poi a scaricare su Miretti Miretti fa finta di tirare col destro se la porta sul sinistro tira deviazione calcio d'angolo è davvero letteralmente l'unica vera occasione costruita dalla Juventus nei primi 45 minuti in modo semplice efficace che un'altra squadra più forte magari non ti fa fare ma è l'unica azione costruita dalla Juve è questo che mi dà fastidio cioè giochi contro una squadra che queste cose te le fa fare perché non le fai cioè perché tiri sempre il freno a mano perché giochi sempre a risparmio energetico perché poi ti entra il palo del Lecce ci lamentiamo però quella palla lì poteva entrare poteva uscire ho capito inizia ad avere la partita in cui hai due o tre occasioni quattro occasioni da gol lucide limpide nel primo tempo e magari sei sette nel secondo per chiuderla perché se no stiamo parlando veramente di subute o non di calcio basta poco basta pochissimo io non chiedo che improvvisamente la Juventus mi inizia a giocare come il Barcellona del triplete perché ciò che non è possibile se non si cambia mentalità se non si cambia giocatore un procedimento lungo forse è irripetibile servono determinati però che almeno il minimo indispensabile me lo faccia come una sgroppata sulla fascia palla avanti palla indietro tiro in porta cioè è un'azione che proviamo negli amatori che proviamo a gestire a gestire a giostrare negli amatori la Juve non le fa non ci prova neanche una roba che non riesco sinceramente a capire perché se nei primi 45 minuti c'è stata quella sgroppata di quadrade questa sgroppata di alexandro e basta e il calcio d'angolo che nasce da questa situazione con il rabbio che tira in porta non c'è stato niente nel primo tempo la Juventus potevi non metterla in campo o comunque si è rifiutata completamente di attaccare cioè io non riesco veramente a capire queste cose qui non me ne capacito dal calcio d'angolo appunto guadagnato in precedenza ecco il primo vero tiro nello specchio della porta della partita specialità della casa calcio piazzato perché noi facciamo sempre gol da piazzato noi segniamo spesso e volentieri da fermo loro soffrono tantissimo queste situazioni sulla squadra che in Serena ha preso più gol da fermo io mi aspettavo che la Juventus potesse vincere 1-2 gol a 0 appunto con un calcio piazzato invece no colpo di testa di rabbio parata e nemmeno quello si è riuscito a sfruttare perché poi non c'è stato l'arrembaggio io mi aspettavo avere proprio arrembaggio almeno nel secondo tempo dato che il primo l'hai giocato a risparmio energetico va bene sei in emergenza va bene 10 giocatori fuori però da qui che poi l'emergenza 10 giocatori fuori te lo posso giustificare poi ai fini del risultato se comunque tu le tue occasioni le hai non le sfrutti però le crei e poi alla fine lecce ti fa quel gol invece che beccare il palo ti fa gol finisce 1-1 e quindi sul risultato dico cazzo non sei riuscito a portare a casa i tre punti perché ti mancavano dei giocatori però il fatto che ti manchino 10 giocatori non si traduce nel fatto che tu non debba provare a vincere la partita anche nel primo tempo tu non debba provare a fare gol a far male al lecce perché sono due discorsi completamente diversi le giustificazioni per gli assenti in questo momento ci sono 10 giocatori fuori ragazzi se hai mai visto siamo alla follia e qua bisognerebbe aprire una discussione sulla gestione atletica dei ragazzi però nemmeno non provare a giocare la partita perché sono due discorsi completamente diversi non c'è collegamento tra le due cose nel secondo tempo invece c'è una bella azione della Juve da sinistra verso destra che si conclude di fatto con un nulla di fatto scusate la ripetizione perché Milic era in posizione irregolare di partenza c'è questo passaggio Miretti fa il velo Milic riceve Miretti si butta dentro senza palla Milic lo serve Miretti va su Kostic Kostic crossa Milic fa un colpo di tacco alla caso e poi Quadrado arriva su Falcone tra l'altro ho avuto paurissima che Quadrado potesse rischiare il secondo giallo e quindi il rosso però c'è la posizione irregolare di Milic però vedete vi hanno giocato con due esterni veri che sono Quadrado e Kostic che vanno da destra a sinistra possano crossare o andare a chiudere sul secondo palo aveva un giocatore in avanti come Milic tecnico una prima punta tecnica in grado di dare anche il passaggio in propria modalità un giocatore come Miretti che è molto bravo a smarcarsi e andare a prendere la palla nello spazio e a servire i compagni nello spazio questa azione ha ricalcato perfettamente le caratteristiche dei calciatori che aveva schierato la Juventus poi è fuori gioco non conta però l'ho vista la Juve l'ha fatta la sa fare perché ne fa una ogni partita una in fuori gioco ti è venuta è in fuori gioco ha funzionato è stata efficace ha esaltato le caratteristiche dei giocatori cazzo riprovala una una sola l'unica vera azione veramente costruita dalla Juventus in fuori gioco non l'abbiamo più replicata dalla destra Quadrado scambia con Ken che di prima appoggia per Milik tiro del polacco centrale Falcone ci mette i guanti quindi anche qui non chissà quale pericolo però create proprio sul minimo cioè palla alla destra palla alla punta scarico sulla punta dietro tira in porta stiamo parlando veramente di robe semplici efficace ma possiamo contare questo tipo di costruzione della Juve pericolose semplicissime banali non ti ricordiamo tre in una partita del genere ma stiamo scherzando cioè è quello che vi dico poi fino ad adesso non abbiamo ancora creato una vera e propria palla goal cioè non c'è stata ancora una vera e propria palla goal no non c'è stata e infatti gli XG non arrivano nemmeno a 1 per quello vi dico che è stata una partita brutta cioè la Juventus ha fatto il minimo minimissimo indispensabile nel secondo tempo aumentiamo leggermente i giri del motore perché sai è il 66esimo siamo 0 a 0 con Lecce cross dalla destra di quadrado impatta Ken malamente pallone che si spegne sul fondo in quasi 70 minuti di gioco la Juventus ancora non è riuscita a creare una seria palla da goal brutta eh questa cosa è veramente brutta e poi arriva finalmente il goal dell'1 a 0 che andrà a decretare il risultato finale costruito da Eling classe 2003 grande bocca al lupo perché ho rivisto l'intervento di Francesco al replay mamma mia che brutta entrata di Francesco su Eling gli si gira la caviglia non so come faccia ad essere vivo Eling è dal marcatore classe 2001 Nicolo Fagioli qualcuno mi ha detto ma come Fagioli ha 19 anni no Fagioli è un 2001 notiamo attenzione perché questa è la grande differenza la grande differenza che c'è stata fino a questo momento della partita un movimento senza palla non il primo perché il primo aveva fatto quadrado su Fagioli con Fagioli che serve quadrado e questo è il secondo Fagioli senza palla chiama e dice dammela lì nello spazio Eling cosa fa punta l'avversario vedete la freccia di Eling che va verso il fondo lo muove lo sposta torna indietro sa che Fagioli sta andando lì lo serve in area Fagioli la stoppa si gira e tiro alla del Piero non tiro a giro ma tiro alla del Piero bacia il palo gol capolavoro quindi bene benissimo Eling a muovere il pallone e prendere il passaggio e a creare quello spazio lì e benissimo Fagioli andare ad inseguire quello spazio lì perché questo gol nasce semplicemente da dei movimenti senza palla e dalla visione di gioco dei ragazzi per andare a mettere il pallone nel punto in cui c'era lo spazio e poi ovviamente c'è il capolavoro di Fagioli ma prima del capolavoro di Fagioli concentriamoci su questo dettaglio perché non è un dettaglio è stato l'unico davvero movimento senza palla che è arrivato a costruirsi in un tiro effettivo in porta che è stato anche l'unico vero tiro effettivo in porta che becca il palo da dentro quindi benissimo è andata benissimo io sono contentissimo per il gol di Fagioli però se poi vado ad analizzare in maniera lucida in maniera distaccata quella che è stata la partita di ieri non posso fare altro che dire ragazzi che fortuna perché è vero che noi abbiamo spinto ma senza mai creare nulla e poi ci siamo fermati perché ricorderete quelli grafico no? la Juve passettino passettino 0-1 0-10 dopo 0-10 negli XG arrivava la 0-5 poi calma piatta cioè poi ci siamo messi addirittura a difendere un corner una punizione dalla bandierina una punizione dalla bandierina guadagnata da Ken all'ottantasettesimo quindi tre minuti al novantesimo e poi ce ne sono stati altri cinque di recupero quindi otto minuti alla fine della partita a difendere una punizione dalla bandierina ma ragazzi ma le partite finiscono poi quella roba lì me la puoi fare mancano trenta secondi proteggi in modo da far perdere il tempo anche se proprio la recuperano tempo che arrivano di là fischia ma otto minuti prima e otto minuti quante volte avanti e indietro sui cento metri del campo fa un avversario ma e infatti poi se questa roba qui all'ottantottesimo quindi un minuto un minuto e trenta secondi dopo quella roba là che hai difeso là se entra questo pallone qui cosa facciamo che storia raccontiamo che favola raccontiamo perché lecce qua può fare gol lecce qua può fare gol ed è incredibile vedere tutti i giocatori dell'avventus con la mano alzata lì c'è un fallo c'è qualcosa che non va ma ragazzi lecce è praticamente al limite dell'area con un pallone bellissimo da calciare perché quello è proprio un pallone che cazzo che voglia di calciare quel pallone verso lo specchio della porta e va benissimo perché poi guardando il replay vedi proprio Bonucci col piedino che decide di toglierlo mi è venuto in mente un po' Cardiff che c'è stata un'occasione in cui abbiamo preso un gol così con Bonucci proprio che fa così quindi insomma secondo me proprio dal punto di vista mentale bisogna fare un bel passo in avanti perché andare a difendere dalla bandierina otto minuti prima della fine della partita a Lecce contro il Lecce è un segnale veramente di difficoltà totale di questa Juventus e ripeto capisco i dieci assenti capisco sono cose che vanno messe nel calderone perché cazzo è vero è concreta questa cosa è chiara è eclatante però non sono cose collegate cioè ribadisco poi al massimo non vinci la partita non porti a casa la partita e puoi dire eh non l'ho portata a casa perché comunque mi mancavano quei giocatori per cambiare una partita che magari in quel momento era bloccata ma da qui a non creare niente a rischiare addirittura che poi il Lecce ti faccia gol perché ormai pensi che dopo il gol del 1-0 è finita la partita secondo me no eh cioè secondo me proprio no cioè qua diamoci una svegliata perché ragazzi non funziona così e quindi grazie mille a Soccerment per i dati ribadisco link in descrizione sia della piattaforma sia del parastinco invece le immagini che abbiamo visto sono proprietà di Dazon ho preso gli screen proprio dai replay di Dazon che potete trovare sul loro canale YouTube fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti fatemi sapere se anche secondo voi siano stati abbastanza fortunati io vi ricordo che le pagelle di Lecce Juventus sono già uscite sul canale le trovate nel video di stamattina ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede un abbraccio ragazzi buona domenica e ci vediamo domani dove inizieremo a parlare un po' anche di Juventus PSG e ci vediamo